Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com Nel video di oggi vi voglio mostrare Ignition, un nuovo tweak per iPad jailbroken e compatibile al momento solo con iPhone 6 Plus per quanto riguarda gli iPhone che ci consente di visualizzare CarPlay senza ricorrere ad uno schermo esterno Ciao ragazzi, ben ritrovati. Come vi dicevo oggi vi parlo di Ignition Si tratta di un nuovo tweak per dispositivi jailbroken, in particolare è pensato per gli iPad jailbroken che ci consente di utilizzare CarPlay, la funzione di Apple per portare iOS nell'auto senza ricorrere ad uno schermo esterno, quindi in modo da avere controlli semplificati sullo schermo direttamente dal nostro iPad o iPhone 6 Plus al momento senza ricorrere appunto a un qualcosa di esterno L'unico downside, l'unico punto negativo di questo tweak che porta poi un'esperienza di utilizzo completa di CarPlay su iPad e iPhone è che quando lo attiveremo il dispositivo eseguirà un respring per entrare diciamo nella modalità CarPlay Una volta fatto questo ci sono dei piccoli glitch grafici come ad esempio vedete mancano i numeri per sbloccare il dispositivo ma per il resto insomma possiamo accedere normalmente al nostro device tramite Touch ID o codice insomma se ce lo ricordiamo senza guardare i numeri è piuttosto facile In ogni caso aperto l'iPad, sbloccato l'iPad troviamo l'icona di CarPlay dopodiché lo schermo si spegnerà premendo il tasto Home e il tasto Power lo accenderemo di nuovo e avremo l'interfaccia di CarPlay completamente completa anche in questo caso scusate il giro di parole ma diciamo pienamente funzionante allora abbiamo l'applicazione musica ad esempio che ci consente di selezionare playlist, artisti, brani, album da riprodurre mentre siamo alla guida o comunque mentre stiamo utilizzando CarPlay in versione iOS in questo modo poi chiaramente possiamo fare tutto ciò che facciamo normalmente con le applicazioni di Apple quindi ad esempio musica ci consente anche di controllare la riproduzione musicale, di creare playlist nuove eccetera abbiamo mappe, app ottimizzata ma non troppo perché seppur le mappe funzionino bene le indicazioni stradali forse la cosa più utile che ci sarebbe stata di CarPlay in questa versione in realtà non vanno quindi potete selezionare comunque la destinazione da raggiungere poi almeno per me ha sempre dato errore il mio iPad quindi non sono mai riuscito ad avviare una vera e propria navigazione tramite CarPlay per iOS abbiamo poi Messaggi, una delle applicazioni chiaramente più utili che ci consente di ricevere messaggi e di leggerli, di farli leggere in realtà a Siri perché non possiamo leggerli per evitare insomma di distrarci nell'auto ma appunto possiamo ignorarli o rispondere una volta che li abbiamo letti abbiamo poi l'applicazione in riproduzione che ci consente semplicemente di visualizzare le musiche in riproduzione abbiamo poi Podcast che è l'applicazione di Apple per ascoltare i podcast e Spotify nel mio caso che è una delle app compatibili con questa versione di CarPlay si suppone che CarPlay originale supporterà più applicazioni in futuro e probabilmente tutte queste applicazioni che verranno supportate dal CarPlay originale potranno essere supportate anche da questo tweak bene ragazzi quindi questo è Ignition vedete se premiamo sull'icona di Ignition viene disattivato quindi si segue un nuovo Respring per tornare alla schermata home originale dell'iPad per il resto quindi se volete scaricarlo lo trovate gratuitamente su Cydia è un tweak completamente gratuito compatibile appunto con iPad di qualsiasi generazione e per il momento solo con iPhone 6 Plus io sono Andrea Cervone e vi ringrazio per aver guardato questo video noi ci risentiamo alla prossima ciao a tutti se ti è piaciuto questo video clicca mi piace condividilo su Facebook e iscriviti al canale se non l'hai già fatto queste tre cose ci aiutano a crescere e a migliorare per proporti sempre nuovi video dedicati all'iPhone di Apple e iscriviti al canale